Da un horror all'altro in questo mese horror. Allora... C'è in italiano? Ok... Inizia. Riley, se stai leggendo questo messaggio significa che non mi vedrai più, se non nella prossima vita avrei voluto dirti tutto, non so quanto tempo mi resta e ho ancora tanto da fare prima di andarmene. Questa lettera ha due scopi, salutarti e lasciarti in realtà la mia casa a Kensdale. La prossima parte potrebbe essere un errore. E gli dei mi perdonino se lo fosse. Quando te la sentirai in soffitta c'è qualcosa che devo lasciarti. Cerca una videocassetta, ma sappi che una volta guardata non si torna indietro. Stammi bene, tesoro. Per sempre tua, zia Kate. Usd, ctrl, clic sinistro. Questo gioco utilizza la fu... Va bene. Sensibilità. Ok. È già scattata. Noi non vogliamo toccare cose che non ci competono. Noti, Henry, grazie. Noi andiamo a vedere la nostra videocassetta. No, bello! In cucina. Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. Today we're going to make an apple pie. Apple pie! My favorite is peach pie. What's your favorite kind of pie? Oh, cazzo, cosa vuol dire? Eh... No. That sounds delicious. Ok. Today we're going to make an apple pie. First we need to cut the apples. Hmm, do you know what we can use to cut the apples? Ma devo scrivere in italiano? Ah, ok. Ah, ok. Eh... Non credo che dovremmo fare questo con noi. È sempre buono essere bravi quando sei con te stesso. Guarda, sono una pirata! Ma siamo sicuri che sia un horror, raga. Ok, Willy. Let's cut the apple. That was hard. We have almost everything we need to make our pie. We just need some sugar. Hmm, do you know where we keep the sugar? Is it in the pantry, the refrigerator, or the sink? Great! Let's make a pie! Hmm, can you smell the apples and cinnamon? Ok, and we're going to make a pie! First, preheat the oven to 425... I don't think we should be using the oven by ourselves. We should always ask a parent to help. I'm not sure where they are right now. We're on our own, Willy! First, preheat the oven to 425 degrees. Then, put the apples into the pie tinge. Now, put it in the oven and bake it for 40 minutes. Hmm, Papa. Our pie is ready! I can't wait to eat it! Willy, let's have some pie! Let's eat it! Let's eat it! Bye, bye, Miss American Pie! Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Ma no, non credo, dai. O forse sì. Dite che dobbiamo fare la torta? Allora, vediamo. Cos'è quel simbolo lì? Qui tre numeri. Ho qui tre numeri, l'altra parte quattro. Ovvio, sono un cuoco. Vabbè, sta roba qua ancora non sappiamo cosa dobbiamo fare. Questo gli manca le pire, direi. Non fare... Non fare bagnare Vavolot, ok. Altra password. Una mela. Quante mele servivano, regà? Non ha detto quante mele servivano? Perché ci sono i funghi? No, te schizzo. Ma dove cazzo vai di sabato sera? Dai! A mezzanotte e mezza. Cioè, abbiamo appena iniziato il gioco e appena iniziata la serata, praticamente, schizzo se ne va. Minchia, oh. Poi non ti dobbiamo bullizzare. Vabbè, proviamo, regà. E però ci serve il coltello? Dove la troviamo? Una password per il coltello? Dove la troviamo? Dove la troviamo? Dove la troviamo? Che che vi improvviso dwelling banjos durante Amanda the Adventurer? Cioè, pfff. Che quality, cazzo. Questo è tipo un orologione, mi sembra. Perché dovrei sapere fare una torta di mele? Fanno cagare le torte di mele. Fanno cagare le torte in generale. C'è una lettera sul vaso? No. Questa è una H, ok. Però, stella. Abbiamo una H, forse. Questa è una lettera. Qui dobbiamo, secondo me, mettere l'altra lancetta. E non posso ri... Ah, forse sì. Ok, possiamo rimettere la cassetta. Questa è una torta di mele. E se dico che usiamo la fragola? No, non me la dà buona. Menù? Forse menù? Flour? Menù potrebbe essere una password? Pi? Un'altra? I numeri, vero? Ok, quindi no. No, non c'è. Qui mi serve proprio la chiave. Bella valvina, non può essere mela perché altrimenti in inglese avrebbe una lettera in più, quindi Enigma non può essere mela. Però vedi che si è resettato, tipo? Oh, io provo a mettere le mele dentro, raga. Vediamo che cazzo succede. Vaffanculo. Ah, è vero, 425 potrebbe essere una password, giusto? Che erano i gradi? No. È una pesca, una di... Questa dite che è una pesca? Fottuta pesca. Let's go! Abbiamo fatto una videocassetta, raga. Cbf, 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 chatta. Cbf, 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 cbf. Cbf, 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 cbf. Ok. Ah, ok. Let's go! Allora. Ok, sono cinque biscotti Sei tortine e una tortona Cucchi, puoi mi mostrare dove sono i cucchi? Questi sono così piccoli! Abbiamo ancora un pozzo nel niprofetto! Il pacco è pronto per il mio amico! Ci vivono abbastanza da me. Quindi, dobbiamo imparare! Wow, è molto tardi. La maggior parte delle piacere sono aperte. Probabilmente non possiamo farciare ora. Devo farciare questo a mio amico. È ora di andare al posto. Andiamo a mandare questo pacco a mio amico. Il suo nome è... Aspetta, non mi ricordo. Puoi aiutarti? Possiamo tornare domani. Non devi farlo ora. No, devo farlo a mandare questo a mio amico. Aiutami! Chi ha il pacco che bisogna andare? Ma chi mandiamo al pacco? A Paco? No, non è il nome mio amico. Oh, cazzo. Come si chiama? Ehm... Il suo... Il suo... Il suo amico... Come si può chiamare? Ehm... Jack. Anna. Ma come Kate? Ho scritto Anna. Ha trollato il gioco, raga. Ho scritto in automatico. Allora, i numeri, ragazzi, li ricordiamo? No. Avevo un treno... Ah no, BBB. No, avevo una roba da 3. Ah, 661. Perché 661? Ah, i 6 biscotti, giusto? Ok. Ah, il nome era Kate. Possiamo parlare Kate qua. Ok. Ah, il nome era Kate, possiamo parlare Kate qua. Dai, veramente? Eh, non c'è una K, ragazzi. Fuck! Non lo voglio aggiungere, prego. Ok, forse il gioco è più semplice di quello che credo. Qualunque cosa tu faccia non... Oh no! Willy ha avuto un accidente! Un accidente è quando qualcosa di male succede, ma non è l'unione di nessuno! Accidenti possono succedere nella tua casa, alla scuola, all'interno di gioco... E tu puoi essere morti quasi in ogni caso! A 3.45 questa mattina, stavamo giocando e Willy è morto e si è morto! Non ho capito... Dove si è morto non si è morto? Indichiamo dove si è fatto male! Al cozzo! Ehm... Ginocchio! That's right! Willy hurt his knee! Who can help when you are hurt? Chi ci può aiutare? Ehm... Dottore? I don't think they can help! Come no? Come no? T- Ehm... T- Non ti vuoi aiutare Willy? Ehm... 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 Ah, medico. Vabbè, se non lo azzecchi, qualsiasi cosa scrivi, ti metti la parola giusta. Se io ho scritto scusa. Ma io se dovessi scegliere un dottore, andrei nella prima stanza, così a sentimento. 22,50 chat, 22,50. Allora, vediamo come possiamo aiutare a Woolley. Quali strumenti possiamo usare per controllare a Woolley? Il monitor del cuore, la macchina x-ray o a la scala? Allora, ora possiamo guardare a Woolley. Ok. Ok. Alla prossima 3.45 era giusto? Credo che sia giusto Ho provamento di 10 Ok E tiriamo anche questo No Ma questo Ma questo non ho idea di No ma qui ci manca comunque una cosa dai Manca una lancetta Credo che debba far partire qualche altro allarme Tic tac Noi vi presento Sam Ma mi è caduta Ma mi è caduta la lancetta No 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 È finita sotto Credo che sia GG Sì è Ah no è qua Figa ha fatto un minore di AAA Non è giusto Abbiamo un altro orario Raga Mi ha 22.50 L'ho già messo Alla prossima Alla prossima No questo non lo posso più toccare Quindi è giusto Questo idem Dice 10.50 Non 22 No diceva 22 Dove vuol dire 3.45 Perché 3.45 Ah no 3.45 L'abbiamo già fatto No Ok 6.20 8.45 La piccola La piccola si è fatta male Alle 9 Ah è vero L'orario in cui si era fatto male La piccola No Non l'ho chiesto Black Perché ho avuto paura Della risposta L'orologio è sbagliato Rivediamo la cassetta Perché 6.20 Raga E quello Ma 6.20 Cos'era Ok Questo 6.20 E questo Lo metto Le 5.25 Come si sono fermati Ok Tutte le 5.25 8.26 Non c'è più La cazzaforte Ma non mi hai fatto rispondere Posso cliccare lei Non c'è più Non c'è più Non c'è più Non lo so Peppiniella Cos'è che puzza Ma che schifo Non c'è più Ma cos'è un cane? La colpe E va beh allora se non è zuppa Non c'è più 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 Ma cosa pensi? Ma pensi che tutto rotta? Non c'è più Non c'è più Non c'è più Non c'è più Soprattutto la mia domanda Non c'è più Non c'è più Non c'è più Maligna rotta Tutto La risposta è sì Cosa è successo? Ok Non mi piace che l'abbiamo risposto così? Ah cazzo E come funziona? Quindi siamo al checkpoint prima Spero di sì Com'era le 10? Non mi ricordo 40? No? 22.5 Eh non va Ah no dobbiamo vedere la cassetta Allora mi sa Eh però scusami Ah ma dall'inizio? Niente Coltello Tranquilli Ciao ti ricordo tutto I can speedrun everything Ok quindi qua prendo Fuck Easy Easy Via E ho clicato continua Ma la cazzaforte però è un cheat se l'apriamo Credo E no non è valido se l'apriamo No dai non l'apriamo Ah no è dopo Ah no è dopo Ehm come che era? Merda non mi ricordo Chat Ok Ok Speedrunner Speedrunner vero ragà però eh ma ok questo non mi ricordo raga 3,45 ok 5,45 ah no devo prendere la lancetta ok morto ok questo non lo puoi aggiustare cioè non lo puoi zeccare cos'è che era qui ah niente se gli dici no sia che gli dici sì che gli dici no qua muori no proviamo ad aprire la cassaforte dai però è strano che faccio continua ma riparto dall'inizio che cazzo è un bottone dove mi chiama anche sto bottone ok la russa non c'era il blu il blu il beige il patata what ah eh eh la russa non c'era il blu beige non sono questi non sono questi che cazzo vogliono dire questi colori allora ora noi abbiamo questo che è da aprire non sappiamo come qui che ci sarà una password di quattro lettere le pine per quel robo lì ma anche che associo i simboli ai vasi cosa me ne faccio raga cioè wow questo vaso è blu e quindi a noi possiamo mettere in pausa sempre ora c'è scritto menu c'è un po' che c'è una pentina di intro magari indica qualcosa dove? è un'altra roba qui vedete un fungo ma il problema è che arriviamo sempre lì non capisco questo cosa ci possa servire ora si ok che le piante muoiono senza acqua adesso in questa roba qui vedi di cadono le gocce dentro ora a meno che io devo fare una roba del genere ma non ho capito e vedi ogni pianta fa un fiore diverso forse ce n'è una vediamo quella con la H mi sembra uguale il menu era scritto con lettere colorate ok ma dove lo metto? cioè non capisco adesso proviamo a farli poppare tutti vediamo cosa succede e la cassetta di attrezzi purtroppo non posso aprirla ancora venga è un lavoro duro ma qualcuno dovrà pur farlo raga cosa è stato? ma questo è diverso è l'unica pianta che è diversa per il momento sembrano tutti rosa azzurro bianco e poi c'è questo e ma anche adesso avendo fatto crescere tutti quei robidi non cioè cosa l'ho fatto a fare? a meno che devo creare una no due non sono sbocciati del tutto quali? questo e ma non saprei nemmeno dove metterli perché vedi sicuramente dove li devi mettere te li mette bene c'è un vaso a destra le baule e un altro bianco no giallino vabbè andiamo avanti col video però raga scusatemi se noi andiamo avanti non finisce sempre per forza nello stesso modo credo di sì cosa è la sua preferenza di pie? è buon che sembra delicioso oggi faremo una pie di apple prima bisogna cutare le apple Vabbè qui non... Ma però vedete che continuano a cambiare le immagini sul frigo? No, proviamo a farla di pesca noi... Bella, sbaluco i 34, thank you thank you, ok... Come on Lauren, we have a special surprise for you... Here's what I have... Mi ansia... Who's ready for ice cream and cake? She's busy with her best friend. Is that show on 24 7? It's like she didn't even hear me. Then we need to talk about some new TV rules. You know what, hold on... Let me try... I wanna capture the big surprise on video. Lauren honey! We got cake and ice cream! We got your favorite mint chocolate chip! Come on baby, we can watch Amanda another time! It's so much fun! Lauren? 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 I love mint chocolate chip! Ok, Lauren... No, she's called Lauren... No... No... Mmm... Mmm... That sounds delicious! Today we're going to make an apple pie! First, we need to cut the apples! Mmm... Do you know what we can use to cut the apples? We can't use that! We can't use that! We can't use that! We can't use that! No, vedi... Poi mi scrive in automatico qualsiasi cosa io scriva... Good job! We can use a sharp knife! Nope! Try again! Do you want to help me? So... Where's the sugar? Ambiato il frigo! Wait! Let's make a pie! Mmm... Can you smell the apples and cinnamon? Hai visto che c'era il disegno con il forno in pausa nella cassetta? Allora... C'era... Non era il fuor... Aspetta, adesso te lo faccio rivedere! Hmm... Ah, c'è scritto di mettere il forno a 5,75. No, ma sei una troia! Ma cosa è successo? Scusate, bevo. Allora, 200 grammi di patate. Funghi carne. Allora, i funghi ce li abbiamo. La carne e le patate però non ce le abbiamo. C'è abbiamo formaggio? Ma dov'è l'altra roba? Cioè, non c'era mica la banana, eccetera, eccetera. Che cazzo sono finiti tutti i cosi? Allora, volete dire che forse... Ah, aspetta! La patata! La luna. Ok. Il formaggio lo mettiamo nella trappola del topo. Mi giro. Classic. Allora, patate, funghi, carne. 5,25. 5,25. 50 minuti. Mi meriterei la barra piena per la mossa del topo, chat. Videocassetta, go! Pum, 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 pum. Ciao, ciao, sono Amanda. E io sono Willy. Amanda, magari alcuni dei nostri amici possono tornare a la città? C'è bello! Mi piace che ci sono tantissimi amici in mia città. Oggi voglio mandare qualcosa di speciale a mio amici. Prima, bisogna andare a la città per comprare loro un card. Do you know where the store is? Good job! Let's go to the store! Let's pick out a card! My pet! No! If something bad happens... What kind of card ch- Cosa è successo? Non lo so, però una canzoncina. Oh, shit. Chat, ho un problema. Ma non so leggere il pentagramma. Se mi dite le note, però le conosco. Però non so leggere il pentagramma, io. Para! PerStord. Peroscere il vaducano delle case. Ora. Qu'è questa? Qu'è questa? Qu'è questa? Qu'è questa? Quà questa è che! Qu'è questa... Qu'è questa? Quő acomp Oh, Fala, Dola, Rémi, grazie. No, ce la teniamo da parte. Eh, va bene. Oh, cazzo. E quindi? No, no, cazzo. No, no, cazzo. No, no, cazzo. No, cazzo. Diciamo loro dei cani buoni! Diciamo dove stanno? Sì, guarda! Come facciamolo? Ora non ho mai riconosciuto la cani! Non so dove andare! Scusi aiutami? Ma che... Oh... Come facciamo ad aiutarla? Non lo faccio! Non voglio andare in là! Perché è NTG in là? Ho detto che non voglio andare in là! No! Perché questo sta succedendo? Non lo faccio! Non lo faccio! Non lo faccio! La stiamo uccidendo! Non c'è nulla qui che voglio! Non c'è nulla qui che voglio! Magari puoi prendermosci a un'altra parte? Voglio prendere il mio amico un trattamento speciale! Voglio prendere il mio amico un trattamento speciale! Non lo faccio! Non lo faccio! No, Amanda! E' una... Questa è una buona giornata! Vuoi darla al tuo amico? Adesso avvicinare la giornata? Chi dovrei mandare questo? Non credo sia la loro giornata! Oddio, come si chiama la pecora? Ehm... Kate... no! La giornata è per qualcuno davvero bello! Come si chiama la pecora, regà? Wally? No, non era Wally! Ah, Wooly! Ok! È il tuo birthday! Bella Pumaco, questa è tanta! No, non ho capito! Vabbè... Lo vediamo dopo questo! Oh, vediamo l'altra cassetta ora! No shit! Allora... 2.47pm 3.07.2002 Noi cos'è che possiamo ancora... Abbiamo bisogno delle pile! Possiamo smanettare ancora... Con il videoregistratore! Anzi, con la sveglia! Che cazzo è quella roba lì! Sì! E questa qui è roba però che serve dopo! Ci serve la password da quattro parole! Quella quattro lettere! E questo cos'era? Quattro numeri! Quattro numeri con un cubo! andata un po' di язык! Dona la dora Dora mi splora tricci! toì tutti tut大家都 vediamo! Dai, vieni con noi, vieni qui con noi, vieni con noi. Vai Dora, disegnagli un cazzetto. Cosa sta facendo, chat? Notte, DJ? Ma chi è questo? Ma è uno spanciatore, altro che poliziotto. Mi ci hai portata tu? Non capisco. 24,7 caramelle. 24,7 caramelle e carne. 24,7 caramelle e carne. What the hell? Guts, è la password. Ok. Non abbiamo le forbici Possiamo fare qualcosa di utile con le forbici? Ah, e questo è il gioco Visce sempre sul tuono Non li possiamo togliere le... Ah no, non va a pile sta merda Però se fa il suono si va a pile C'è la bambola, giusto, volendo la tagli Non c'è più la bambola È sparuta Vabbè, vediamo la videocassetta Maiale, pecora, pollo Ricordiamoci, maiale destra Pecora sinistra, pollo destra Ok Non so che c'era scritto che passava sopra In un zoo di di prezzi Ci sono molti animali qui per prezzi e giocare È divertente spendere il tempo con animali Sono molto diversi da persone L'applicano diversi E non parlano come persone Amanda, sono un animale E non parlano Animali non parlano, sbagli Guardate questi signi Facciamo un'esplosione come gli animali sulle signi Sei pronti? Un'esplosione dice Mee, mee Un'esplosione dice Ha, 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 ha Un'esplosione dice Come... Chissi Che cosa è divertente Un'esplosione Un'esplosione facendo un'esplosione Do you have a family? Animals have families too Let's go see one of the animal families I want to see the chickens Can you show me where the chickens are? Right! Let's go see the silly chickens What a cute fibba Having a family is nice I see a mommy chicken And baby chickens And I see... I see a daddy chicken Look at the chickens Do you know what the daddy is called? Oh, cazzo... Ehm... Wait... What did you say? Howdy! Where should we go next? L'ho preso, regà L'ho preso perché La foto di prima Ho sparato a cazzo Sam per me Ma in realtà Lei ha detto How did you? E ha cambiato discorso Time to visit the sheep Can you tell me Where we can find the sheep? Oh, shit Dove erano le sheep, regà? Che voli imbecilli E' la sinistra, a destra, a sinistra Non mi ricordo Eh, non mi sembra E' un cartello con una pecora questo secondo me Va bene Ok, let's go! Look at the nice sheep family All the sheep are right where they belong! Blizzard warning Gatto onoressico Gatto onoressico Come si sente la gatta? Bene si sente la gatta Bene si sente la gatta She must be so scared Kidnik alone There is no one to help her Will you help the lonely kitten? Oh, cristo Dovevo rispondere no? Dovevo rimettere la cassetta mi sa vero? Vedi Tornado Non so, giusto Sam? Vedi Tornado Oh, cazzo, è finita male, raga Dovevamo aiutare il gatto Nooo Vabbè ma ogni volta devo rerannarlo tutto Cioè scusami, continua? Cosa serve allora? Beh però aspetta, in realtà noi possiamo già Ehm, com'è che era qui? Gazz, bravo Gilb, segnati tutto Minchia, my man Ah ma guarda ci salva anche le videocassette Quella rossa l'abbiamo vista? Credo di sì C'è una pambola? Eh no, cazzo, non c'è Eh ma non c'è la pambola, regà C'era? Cazzo No, attenza Eh no, è rimasto con la cassetta dentro No Vediamo Ma non c'è già più, vedete che non c'eramo No No, però adesso scusami Eh che ho paura E se faccio una nuova RAM magari perdo questo Devo farmi uccidere Eh però, scusami, dove è finita la cassetta? Ah era lì a sinistra Scusami, vediamo Gallo si chiama No, proviamo a dare i serpenti I think it's time to visit the sheep Can you tell me where we can find the sheep? Ew, I don't want to see those, they're scary I don't want to go near The sheep are waiting for us Where are they? Ok Ok Ok, let's Kitten is alone Will you please help the mother? Won't you help? Won't you help the mother, kitten? Eh, non ce lo fa schippare No Can't stop, I refuse, zero escape Ok, adesso moriamo E vediamo questa cosa della bambola Ah, vedi che è tornata la bambola, mo? Sta troia Sta vacca Ok, allora quindi Adesso c'è Ok Corbici Arrivo, cazzo, ti taglio Strozza, ti taglio Porca troia Oh, le pile Ok Hello, I am Blubbot I think this is going to be fun Ok, Blubbot si chiama lui Era giusto, bravi Sì, dove l'hai trovata? una videocassetta prima e come glielo spiego c'erano altri numeri insieme era quello dei messaggi è che c'erano di cacetta era allora sto pensando era gialla quella con il medico non è la cui staviero come on loren we have a special surprise for you here's what i who's ready for it's been three weeks since local television producer sam colton was reported missing and authorities still have no leads colton is the creator of amanda the adventurer the public access children's educational program that became a huge hit among area children but with colton's disappearance the future of the show remains unclear last year hamlin entertainment purchased rights to the live-action program starring colton's daughter rebecca as budget and production value increased hamlin reimagined the show as an animated series planning to syndicate the program nationally hamlin's acquisition of the program and colton's recent disappearance have raised some eyebrows and to further fuel these concerns new episodes of amanda the adventurer have had subject matter that has left local parents uncomfortable about the program my kids are still really into that show but it has changed i mean i walked in the other day and amanda was talking about how mommies and daddies aren't always right i mean what is that that's not something you tell impressionable kids i had to change the channel i just told the kids that the tv was acting up it's not yet it's not yet clear how colton's disappearance will affect the involvement of his daughter rebecca the show's young star we reached out to hamlin entertainment for an interview while representatives declined to comment they did release a written statement we at hamlin have concerns surrounding the nature of sam colton's abandonment of both our program and his daughter we cannot speculate on his reasons for leaving we do ask that the community respect the privacy of rebecca colton as she needs time out of the spotlight to process these disturbing events for the time being rebecca's local appearances have been canceled including the kensdale public library fundraiser woolly's readathon this saturday evening rest assured that amanda is not going anywhere hamlin entertainment remains committed to our vision for this cherished program despite this statement authorities have not drawn any conclusions about the nature of sam colton's disappearance we will share any future updates as the story develops when we return we'll check in with zappo the talking gerbil zappo ricordiamoci zappo anche it's me your friend skip and with me as always is my trusty dog chip ma che ok ok che non average twitch streamer quello li ho di quelli che piacciono a voi vabbè vai in culo no dove che abbiamo trovato la radio regà dai non era questo questo era quello col medico che non c'entra un cazzo fanculo era un'altra videocassetta regà di quelle che andrebbero sbloccate credo nell'orologio no abbiamo visto un video dove c'era una radio che andava e quella era la stazione radio regà god so 1 5 5 8 I can tell that you are trying 5 life is not just a series of zeros and walls fanculo biocce e qui c'è i verdi senza neanche la combinazione me la so scordato ormai nemmeno mi ricordo cosa c'è qua dentro 826 era allora qui ne abbiamo uno da quattro che è l'ultima cosa che ci rimane credo è vuota adesso lo mettono non avevo nulla e chip ma non sono parole sono numeri manca anche questo giustamente merda e no l'unica è doversi ricordare quella roba lì dove l'hai trovato che cazzo vuol dire magari devi mettere il numero della cassetta 0 0 0 I am sorry I cannot figure this one out questo in cucina è il primo video credo si si il colore ah tu dici 3 life is not just a series of zeros and walls 7 7 I can tell that you are trying 2 this means nothing to me 1 this would be more fun if I knew what you were trying to say 6 I have never really thought about it like that before 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 9 12 15 16 16 16 Che colore è il cubo? In che senso? Non va più Scusami, perché non va più? Ah, il cubo è azzurrino? Eh, è off, ma... Ah, che cazzone Ok Ok, allora Rifacciamo questo Dobbiamo ritrovare quella cassetta là, raga A meno che Non è che era in quella lì nella cassetta, raga Non è che era in questa qua Nella cassetta azzurra c'è scritto come aprire quello Veramente Notte, Nico Proprio l'armadio è quello con i quattro numeri Il 2002 E sono le uniche cose che vediamo, raga 3-8-0-2 3-8-0-2 No? Ehm... 8-3-0-2 No? rimane sempre 2.47 2.48 Sì, effettivamente questa qui è l'unica cassetta che non ci è servita a niente e basta, qui entra e ne finisce e visto che nella lavagna c'è un foglio sublabrut Kate Park Ieri il papà sono andato dal lago e è caduto ma non direi che ti ho detto ma dovrei vedere le vacanze estive Riley puoi provare 0.283 I am not a calculator no nemmeno la cassetta è il tuo quartiere e quella in cui c'erano i negozi e quale cazzo era il tuo quartiere? io ho in cucina che è la prima questa è cos'è una famiglia che è quella con gli animali metti quello della fattoria è questo? secondo me è questa la roba ragazzi perché c'è il giochino il problema è che adesso per dire il thunderstorm dovrebbe uscire ok I'm an animal ah non so quando mi chiede il nome della il nome della del pollo se scrivere gallo o scrivere sem ma credo che non cambi niente non ci sono sai cosa si chiamano il padre? il padre si chiamano un rooster la mamma è una hen e i bambini sono città alcune mamme mangiano i bambini yum yum ok, andiamo a vedere altre famiglie di animale dove dovremmo andare prossimo? penso che è il momento di visitare i bambini ma scusa, non viene l'altra interferenza? ok, andiamo! guarda la famiglia buona bambini tutti i bambini sono proprio dove devono ok, blizzard che sarà quella in alto? non ho schippato niente raga no, ma esce sempre questo forse abbiamo perso il coso dobbiamo rifarlo raga no, no, non ho schippato ah no, vedi però ah no, no, vedi, sei schippo sì, se schippo non me le fa merda però quando è che ho schippato, scusate? no, no, vedi però flooding eh no dobbiamo trovare il modo di triggerargli la storm credo no, non so se ora ha già tenuto calcolo del primo perché vedi che mi sembra illuminata e infatti non esce più secondo me la prima ce l'ha già in canna ciao ciao amici amanda e io sono Wooley Baaa Wooley ha fatto un sonore animal ha detto Baaa perché è un sheep può fare un sonore che che? è bello great you sound just like Wooley hehehe hehehe wow yeah you sound just like me oh, thunderstorm e no, vedi a me sembra illuminata ora vedi che è anche premuta, sì è indi... no, però anche questa vabbè, vediamo a un paio a un paio a un paio c'è un po' più piccolo di animali a un paio a un paio più piccolo di animali superi son più diversi che non parla come le persone amanda credo io sono un paio and i Gli animali non parlano, sbagliato! Guardate questi signori! Facciamo suonare come gli animali sui signori! Siete pronti? Un po' dice meh, meh Un piccino dice... Un peggio dice... come... Gli animali facendono sbagliati! No, sbagliato! Sbagliato! No, questo non è quello che si chiamano! Sbagliato! Il padre si chiamava un rooster! La mamma è un hen... E il big... Eww! Non voglio vedere questi! Sono strano! Non voglio andare a... No, vedi che flooding esce ancora? Ok! O... Che... 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 ker... Che... 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 Ti odio, Woolee! E però, vedi, questa è Thunderstorm, che è la prima. A noi serve il tornado. Certo che potevano mettere il pernù, eh? Guardate questi signi. Facciamo suonare come gli animali sui signi. Siete pronti? Un gato dice meh, meh. Un piccolo dice... Un peggio dice... Come... FUN! I animali hanno un suono divertente! Hai una famiglia? I animali hanno famiglie, anche! Andiamo a vedere una famiglia di animali! Voglio vedere i ucchi! Puoi mostrare dove sono i ucchi? Allora, andiamo a vedere i ucchi ucchi! Non abbiamo sbagliato qua, tipo cliccando maiali e quell'altro, eh? Maverica. Ti chiedo di dove si può andare? Certo, cosa hai detto? Certo! Beh, non l'ho mai sentito? E io... 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 Sì, anch'io, stai iniziando a... Eww, non voglio vedere quelli, sono fissi! Non voglio andare a... No, però vedi, questo è flooding... Non c'è il fottuto tornado! Guarda! Sì, i fottuti aspettano per noi, dove sono? Ok, andiamo! Guarda la famiglia bella bella bella! Tutti i fottuti sono proprio dove si appena! E questo è Blizzard... Cioè voi siete sicuri che una volta tornado era uscito? Cioè, dove è la tua famiglia? E sembra che questa città è stata all'altra persona! Come si sente? La città è alonso... Non c'è nessuno per aiutare! Perchè ti aiutare la città? Perchè ti aiutare la città? Non c'è nessuno per aiutare la città? Perchè ti aiutare la città? Non c'è nessuno per aiutare la città? Vediamo così... Ha detto sì io! Ehm... Non siamo morti? Ok. Ehm... 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 Oh, te è cresciato il gioco? Fuck you, Amanda! Fuck you! mica è rimasto ok si è resettato però e sta videocassette era quella dentro alla cesta vero? si gazz oh shit dove è quella cosa? ma perché non c'è? vabbè è qua because he's a sheep allora thunder storm e qui si ferma giusto sul thunder storm e ora va ok non so se provano a sbagliare con queste qua però no tanto qui nella prima zona ormai il caso ce l'ho dato let's make sounds like the animals on the signs are you ready? a goat says meh meh a chicken says what does the fox say? what the fox say? what the fox say? can you show me where the chickens are? wait let's go see the silly chickens what a cute fibba having a family is nice I see a mommy chicken and baby chickens and I see and I see and I see a daddy chicken look at the chickens do you know what the daddy is called? wait what did you say? how do you where should we go next? I think it's time to visit the sheep can you tell me where we can find the sheep? ok let's go look at the nice sheep family all the sheep or where they belong and now I have triggered Blizzard and we don't have Blizzard and I just need this and I think it will always be able to find this and I think it will always be able to find this yes yes hello 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 No, ok, se dici no anche solo una volta? Ah no, ok. Tornando mi era procato scrivendo Peppe? Ma credo che sia stato un caso. Ah no, aspetta però, se schifo così, vediamo. Minchia è vero, scrivendo Peppe è tornato, what the fuck? E' questo qui? Non ho idea di perché Peppe, raga. No, probabilmente è un qualsiasi nome che è sbagliato. E Blizzard come usciva dall'altra parte, vero? No, però usciva prima, appena arrivava, cazzo, ho trollato. Adesso ne facciamo così, la rimettiamo ancora. Ok, vediamo cosa succede facendo così. Blizzard, va bene. Please, be my Blizzard. Fuck. Era l'acqua, raga, come l'avete triggerata l'acqua? E mi dovete ricordare come abbiamo triggerato l'acqua, forse con Sam. Esatto. Ok, per favore. I don't want to go near Ok Tieni di scrivere il seme poi sbagli Fa un culo cazzo In culen Cosa è sta videocassetta qui? Tutto marcisce Ma scusami Noi sta videocassetta l'abbiamo già vista Come abbiamo fatto a sbloccarla Con una cosa nuova se l'abbiamo già vista Scusate Com'è possibile? Noi tutto marcisce l'abbiamo già visto Ma come fa a essere nuova? Ma non è rimasto Ma noi vede è diverso It might die before anyone can help it Should we help the kitten? Cioè E si vede ogni volta ci arrivano adesivi diversi sulla tv Però ancora non abbiamo triggerato sto coso E manca ancora il robot esatto Però le pile ce le ha ora Questo ormai è vuota E non abbiamo ancora aperto questo Regà Ancora dobbiamo rifare la torta di mele? Dove sbloccarti dalla cassetta nel tuo quartiere Vediamo Ok Ok Ma non era questa credo Era l'altra tipo questa sai? Vedi 150325 È il numero che abbiamo messo da Blabbot Noi use jamais Noni esatto Noni esatto Noni esatto Noi C'è Manda le mie condoglianze a Kate? What? Come lazione non è più ti avrò un anno migliore di sempre, 0882. Fuck. E allora nemmo l'altra volta. 0882, do you really know how to push my buttons? 0882, do you really know how to push my buttons? Aspettiamo degli uno al posto delle candele. 0882, do you really know how to push my buttons? 30 minuti e 325 gradi. 0882, do you really know how to push my buttons? 0882, do you really know how to push my buttons? 0882, do you really know how to push my buttons? 0882, do you really know how to push my buttons? 0882, do you really know how to push my buttons? 0883, do you really know how to push my buttons? 0882, do you really know how to push my buttons? ma no quello che ho fatto io credo ma no ok we don't have much time do you trust me? Ma il nostro giro non sta andando al ginocchio Il cuore di Wooly è morto! Il cuore di Wooly è morto, ma il Dr. Amanda è qui per aiutare! Prepariamo il paciente! Sì, Wooly, trinca questo! Non lo so, Amanda! È tutto solo per pretendere, non è, Wooly? Amanda... Sì... Un cazzo! E cosa usiamo? Ma io posso provare! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! I tricked you! We're going to use all three! Ha, ha, ha ha, ha! Il sono sedia rauti! I need a little help here! Help me, please! Now, who are you going to help? Eek, 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 eek! oh cazzo è morto woolly no mi ha cancellato tutto come c'è scritto va oh no ma manca ancora la vista e se noi aiutiamo lei qua adesso gli ho messo le gambe ah no ok devo fare la testa per forza no ti ma avrì e quindi cazzo è questa? è stata 1984? l'estate del 1984 è stato quando io sono stato concepito chat what the fuck ok allora how many sedie e funghi frutti luci sedie e funghi frutti e luci c'è una due ho due sedie 1,2,3,4,5,6 aspetta però il pomodoro non è un frutto un frutto? ok allora sono 1,2,3,4,5,6,7,8 funghi 1,2,3,4,5,6 quello dietro quindi sono due sedie 2,8 che cazzo? 2,8 2,8,6 e le luci e le luci 1,2 vabbè la troviamo l'ultimo 2,8,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 4-0-1 4-0-1-2-5-8 4-0-1-2-5-8 4-0-1-2-5-8 4-0-1-2-5-8 Vabbè io metterei sì l'acqua sul coso ma prima tipo gli scriverei quel numero lì 4-0-1-2-5-8 The treasure is in the chest Obviously But first you need the key to my heart Because it is not what you have on the outside that matters It is what you keep on the inside that really counts Ok mi sta dicendo di romperlo praticamente I thought we'd give me another chance We were going to have such a beautiful life together Please do not forget Per favore non dimenticarmi Chiave D Chiave D A baule Prosciutto cotto Possiamo condividere E condividiamo Finga prosciutto cotto Il nome della videocassetta Vietata a Ginart Ma non c'è la pecora? Hi I'm Amanda When you're friends You can share all kinds of things with each other I can share my crayons with you So you can have fun coloring too Look at silly mister fox Sharing shows you care about someone Friends can share toys They can share snacks I'll share some of my snacks with you I'll share some of my snacks with you I'll share some of my snacks with you Which snack would you like? L'ho scritto io per errore? Ho sbagliato! Puttana! Come vattene? Soffro di brutto regà, ho misplicato! Dai, quanto è lungo! Dai che ho sonnissimo, fammi fare quest'ultima parte Vi ricordate il codice per aprire l'armadio? Dove, otto, sei, due! Dai! 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 voglio andare a dormire! Dai! 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 Scusa, ma si io faccio una roba del genere? Ma da dove cazzo è uscito il pesce, raga? What the fuck? Ok. 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 Come ho fatto tutti i finali, se non lo tiro? Va avanti così tutta la vita? Fuck! Le orecchie. Effettivamente ci sono tutti e quattro gli sticker, raga. Beh, però è stato carino, dai, per essere un titolino stupido. No, è finita la musica. E va bene, e va bene. Poi non dite che non sono un Omega Turbo Varara.